Per senso civico, per dare il buon esempio, per essere pienamente operativi nelle prossime settimane. Si sono presentati al Teatro Maggiore di Verbania, sede cittadina per i vaccini, i primi volontari della protezione civile del VCO per i quali è partita quest'oggi la campagna vaccinale. Per loro la prima dose di AstraZeneca. Ho deciso di sottopormi perché c'era questa opportunità per fare poi il volontario. Perché se abbiamo un'emergenza dobbiamo essere comunque vaccinati. Ma soprattutto per dare anche un supporto nelle vaccinazioni di massa della popolazione. Quando ci saranno veramente tutti i grandi clou della popolazione da vaccinare dovremo essere tutti operativi. E poi secondo me anche un segnale di non aver paura di fare il vaccino. Per senso civico innanzitutto. Perché bisogna crederci, se non ci crediamo torniamoci tutti e buonanotte. E come facendo parte della protezione civile, come responsabilità se voglio operare in mezzo alla gente devo proteggere me e proteggere gli altri. Mi sembra una cosa logica. Il vaccino l'è stato somministrato? Non ci sono stati problemi o piccole reazioni avverse? Sono passate quasi mezz'ora. Non ho nessun problema. Ho altri colleghi che l'hanno fatto in giornata stamattina. Che ci siamo sentiti. Tutto a posto, tutto tranquillo.